Una chiusura d'anno all'insegna delle tele e dei colori per gli alunni del liceo classico linguistico Gaetano De Bottis. Dopo lo squillo della campanella delle ore 12 di ieri, infatti, tra le urla festanti dei ragazzi che hanno concluso l'ultimo giorno effettivo di scuola nell'anno 2023-2024, il colonnato esterno dello storico edificio ad aeroplano di Viale Generale Callo Alberto dalla Chiesa si è trasformato in un laboratorio artistico in plein air per la realizzazione del progetto Madre Terra. Organizzato e promosso per la seconda annualità dall'Associazione Exalunni, il concorso destinato agli allievi delle classi seconda e terza dell'Istituto Classico e Linguistico ha avuto ad oggetto la rappresentazione artistica dei tre gol dell'Agenda 2030 inerenti alla tematica ambientale. Il progetto Madre Terra intende mettere in risalto quella che è l'affezione da parte dei giovani nei confronti dell'ambiente, del nostro ecosistema, di tutto ciò che riguarda anche il nostro territorio. Abbiamo scelto quest'anno la modalità della compilazione e della composizione di un dipinto perché abbiamo pensato che sia bello affidarci alla fantasia dei giovani, alla loro capacità di inventare. Il dipinto deve riflettere i tre gol dell'Agenda 2030, gol 14, 15 e 16, che riguardano specificamente l'ambiente. Hanno svolto delle lezioni con la dottoressa Marisa Santoianni e con la dottoressa Viviana Di Matteo. Inoltre abbiamo avuto la collaborazione il contributo concreto del comandante del porto, la dottoressa Ida Montanaro. Qual è stata la risposta dei ragazzi? Come si sono comportati? Soprattutto qual è l'entusiasmo che lei legge nel viso di questi giovani? Noi abbiamo visto una massiccia partecipazione. Sono più di 30 ragazzi che partecipano a questo concorso. è un concorso rivolto alle classi seconde e terze ed è la prima volta che si realizza un concorso solo pittorico e sono stati messi a loro disposizione le tele, i pennelli e tutto rigorosamente diciamo in una modalità sostenibile. Ci sono piatti di crete, bicchieri di vetro, tutto nel rispetto dell'ambiente. Ad accompagnare e guidare i ragazzi nella composizione e realizzazione degli elaborati artistici la pittrice napoletana Flavia Bracale, ingegnere edile evocata alla passione pittorica. Lavorare con dei giovani oggi è ancora per me più stimolante perché io lo faccio con gli adulti, quindi con i miei coetanei. Invece lavorare con i giovani sarà strano ma sicuramente è stimolante anche per me. Ho visto già ragazzi che sono capaci anche soltanto nel disegnare che sembra l'ostacolo più grande per tutti quando invece la chiave sarà quella di lasciarsi andare e di seguire le emozioni. Ovviamente partendo da un progetto iniziale che è quello basato sullo studio che hanno fatto per l'agenda 2030. Sono molto contenta perché la cosa che mi piace di più è quella di poter dare un pezzettino di me agli altri, proprio creando questi tipi di incontri. Chi più di me, perché essendo appunto un ingegnere io da autodidatta oggi provo a fare l'artista. L'evento finalizzato all'assegnazione di una borsa di studio ai midesimi allievi è stato realizzato grazie all'impegno concreto ed economico della società Risi World di Valeria Sessa. Sono qui stamattina anche rappresentanza della professoressa Valeria Sessa che è legale rappresentante della Risi World, la società che si è fortemente impegnata nell'ideazione, nell'organizzazione, nella realizzazione di questo concorso, di questo progetto Madre Terra. A mio avviso i ragazzi sono veramente stati straordinari e che hanno mostrato una sensibilità che va oltre la sostenibilità dell'ambiente, si sono messi in discussione. Ragion per cui al di là di quello che sarà l'esito di questo concorso per me loro sono già tutti vincitori. Presente per l'occasione anche il comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, Ida Montanaro, perché le tele dei ragazzi saranno esposte ed allocate in via definitiva nella sede della Capitaneria presso gli ex Molini Marzoni. Comandante Montanaro, una bella pagina artistica, sociale ed ambientale, al liceo classico Gaetano De Bottis, le tele saranno allestite presso la sede della Capitaneria di Porto. L'obiettivo è stato quello di fare esprimere ai ragazzi veramente il loro desiderio, quello che hanno dentro riguardo la terra, la nostra madre terra, la parte terrestre ma soprattutto anche la parte marittima, con l'impegno da parte della Capitaneria di Porto di esporre per sempre questi quadri all'interno della sede dei Molini. La nostra finalità è sempre quella di far conoscere a tutti qual è l'impegno del corpo delle Capitanerie di Porto sul mare a tutti i livelli, non solo per quanto riguarda la ricerca e il salvataggio ma anche per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino.